Benvenuti su meteogiuliaci.it. Dopodomani lunedì 17 settembre ci attende una giornata all'insegna del bel tempo grazie ad una temporanea espansione verso le nostre regioni dell'anticiclone delle Azzorre che probabilmente ci terrà compagnia fino a martedì. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete il sereno che ormai domina su tutte le nostre regioni a parte questa nuvolosità che vedete in prossimità delle regioni di nord-ovest porterà qualche velatura soprattutto sul nord Italia. Infatti se andiamo a vedere il tempo per la giornata di lunedì vedete il sole che splende dalle Alpi fino alla Sicilia soltanto un po' di nuvole sul Piemonte, sull'ovest della Lombardia e sulle Alpi centro-occidentali. Per quanto riguarda le temperature queste saranno stazionarie su valori compresi tra 23 e 26 gradi qualche punta di 27-28 gradi sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto e ancora una buona giornata.